Sofia Lillis è un'attrice statunitense. Principalmente nota per aver interpretato il ruolo di Beverly Marsh nel film IT, adattamento cinematografico del 2017 del romanzo omonimo di Stephen King Sofia Lillis è nata il 13 febbraio 2002 a Kranites, Brooklyn, New York. Iniziò a recitare all'età di 7 anni, prendendo lezioni all'Istrasberg Theater and Film Institute Debuttò nel mondo del cinema nel 2014 nel film A Midsummer Night S Dream, dopo il quale recitò in 37 e in IT Con quest'ultimo soprattutto, diretto da Andrej Smuschietti, guadagnò fama internazionale con il suo ruolo di co-protagonista assieme a Jadon Liberer, Finn Wolfard, Dwight Toleff, Bill Skarsgård, Jack Dylan Grazer, Jeremy Ray Taylor e Chosen Jacobs Lo stesso anno interpretò uno dei figli di Kristen Bell e Dax Shepard nel videoclip della cantante e musicista Sia, Santa S. Coming for Stati Uniti Nel 2018 è entrata nel cast della serie televisiva della HBO Sharp Objects, nella quale ha interpretato Camille Pricker da ragazzina Lilis ha un fratello gemello, Jake, ed un fratellastro di nome Phillips I suoi genitori hanno divorziato quando era ancora una bambina e attualmente vive con la madre, Juliana, ed il patrigno, Christopher Mellevold, che valorizzò la sua passione per il cinema Nelle versioni in italiano dei suoi film, Sofia Lilis è stata doppiata da Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane